Enrico, ci troviamo qui oggi in cooperativa, è stata inaugurata una nuova sala destinata ai lavoratori, una sala che servirà come centro anche di relazioni durante il cambio turno, durante i vari cambi turni che ci sono fra le squadre che intervengono sul territorio. È una cosa ottima, come sempre Formica cerca di andare avanti e di porsi sempre nel miglior dei modi con i suoi soci e i suoi dipendenti. Questo spazio è molto importante perché ci permette di rilassarci un po', di aspettare il nostro turno, di parlare tra di noi, di mangiare perché ci saranno i tavolini e quindi nell'ottica di una promozione dell'umano è una cosa bellissima. E quindi andiamo avanti sempre migliorando e accrescendo quello che è il focus della nostra missione che è l'uomo. Quanto è importante nel cambio turno fare uno scambio di parola, vedere il collega, non solo per consegnare le informazioni che riguardano il lavoro ma anche per chiedere semplicemente come va oggi. È molto importante soprattutto per i nuovi arrivati che hanno molta ansia e quindi gli anziani, quelli che sono da più tempo qui, possono utilizzare questo spazio e quel tempo per tranquillizzarli, per dare delle dritte in modo che possano affrontare nel migliore dei modi il turno e possono essere anche meno tesi e quindi andare incontro magari meno inconvenienti, ecco perché all'inizio c'è molta ansia.